ok moce mo è il bello dunque questa roba qui un bello buzz allora qui ci sono c'è il fasciame ma è proprio questa carta che non funziona con la penna qui c'è il fasciame qui c'è un'altra ok allora adesso cominciamo a mettere un po' di chiaroscuro nel modello poi qua dietro circa questa altezza c'è un muro però io ormai ho fatto la barca in prospettiva centrale quando probabilmente non era proprio oppure era girata rispetto al muro per cui io faccio un arbitraggio qui c'è il muro questo va così rispetto a qui c'è sale qui c'è un muro e qui c'è tutto il mare in tempesta va bene mare in tempesta lo studiamo un'altra volta invece qua dietro circa questa altezza bassù adesso io lo faccio più piccolo tutto quel castello lo faccio più piccolo basso così così perché non mi c'entra vedi che dovevo tenerle conto dovevo tenerle conto e non l'ho contato giù giù ma in questa maniera si rompa giù poi qui c'è un frontalone che fa così va giù stretto così va così qui c'è una macchetta qui c'è una cupola entra lo scirocco ecco quando entra lo scirocco entra così caspita che posto guarda se mi inviti una settimana a mia moglie ti regalo un quadro troppo bello poi scende così poi va giù così va avanti giù e poi vabbè c'è questa roba qui e quindi questa qui però questo qui è lontano e quindi noi mettiamo così facciamo vedere il solitato questo lo facciamo più scuro questo invece così qui c'è tutta una roba che è più scura guarda e guarda con questi questi bastioni va bene questo lo facciamo così mettiamo così mettiamo così e poi abbiamo questo muro il muro è più scuro però il muro lo lascio a matita io abito in un bel posto ma pure questo non scherzo continuiamo domani bene allora Grazie a tutti.